Il dado e tratto resta la sola speranza adesso di non finire ultimi dopo una stagione disastrosa e il Pescara già aritmeticamente in Serie B. 14 punti di cui 11 sul campo sono davvero una miseria, la difesa più bucata d'Europa parla poi da sola. Il tiro al bersaglio della Roma sancito nel posticipo quanto era nell'area da mesi in una stagione da sagra dell'errore a ripetizione uno dopo l'altro. In Serie A in Rival Adriatico la storia sembra non aver mai insegnato nulla. Ecco Zemo. Noi dobbiamo prima finire quest'anno, io ho ancora l'obiettivo di superare un avversario, due, non vogliamo finire ultimi quindi ci dobbiamo impegnare. Poi per il prossimo anno si vedrà, è normale che noi abbiamo visto qualche giocatore che ci può interessare, speriamo che possiamo chiudere. Non resta adesso che provare a vivere il finale con un briciolo d'orgoglio partendo dalla trasferta di Cagliari. Vittorini, Campagnaro, Stendardo e Gilardino procedono a singhiozzo mentre non ci sarà Biraghi squalificato. La patata bollente adesso spetta alla società che dovrà allestire una Serie B degna della storia bianco-azzurra e che sappia soprattutto cancellare il disastro dei disastri.